Musica Oggi parliamo di foreste, parliamo di un progetto molto interessante coordinato dall'Istituto Agrario di San Michele all'Adige attraverso il Centro Ricerca e Innovazione ricordiamo che questo è l'anno internazionale delle foreste e siamo in compagnia del ricercatore e dell'esperto Franco Miglietta parliamo della situazione a livello globale Allora la situazione forestale globale è estremamente complessa ci sono delle ombre e ci sono delle luci le ombre sono quelle ovvie ogni anno perdiamo circa 130.000 km2 di foresta per vari usi energetici ma anche per tagli illegali le luci però ci sono perché in gran parte delle aree temperate del pianeta la superficie forestale sta aumentando l'Italia compresa si sta osservando un significativo espansione del sistema forestale in molte parti del mondo Se dovessimo stilare una graduatoria dove si collocano i boschi italiani? Sono dati recenti dell'inventario nazionale delle foreste un po' a sorpresa la regione italiana che ha più foreste è la Sardegna poi seguita dalla Toscana in assoluto certo se le riferiamo alla superficie territoriale il Trentino, la Liguria, l'Alto Adige sono le regioni che hanno la maggiore superficie forestale in percentuale Parliamo ora dello stato di salute di questi boschi, come stanno? E questo è un aspetto molto interessante che sta attirando l'attenzione un po' di tutti i ricercatori che si occupano di questo tema ed è che recenti pubblicazioni i lavori che sono stati fatti di recente dimostrano che i boschi in quasi tutte le parti del pianeta stanno crescendo più velocemente che in passato e quando dico questo dico una superficie data a una superficie di bosco questa cresce più di quanto cresceva 50-100 anni fa Quali sono le cause di questo rapido accrescimento? Si possono fare delle ipotesi? Questa è una bella domanda è difficile rispondere a questa domanda ci sono alcune idee ci cominciamo a fare qualche idea ma proprio questo è uno dei punti centrali che dobbiamo chiarire perché si ha questo aumento di accrescimento le ipotesi sono varie vanno dalla concentrazione atmosferica di CO2 che aumentando la concentrazione di CO2 fa crescere di più le piante potrebbe essere un'ipotesi l'inquinamento anche perché le deposizioni azotate potrebbero essere utilizzate in modo favorevole dai boschi il cambiamento di gestione nell'uso del territorio insomma ci sono tante soluzioni possibili è proprio questo che dobbiamo cercare di capire nei prossimi anni Il tema delle foreste è un grande tema l'attenzione del centro ricerca e innovazione di San Michele che è attivo con vari progetti parliamo di Fox Lab, questo laboratorio in cosa consiste? Fox Lab, questa sigla che sta a indicare foresta e legno nasce da un accordo fatto fra i presidenti della provincia di Trento della fondazione Mac, istituto agrario e del consiglio nazionale delle ricerche che qualche mese fa si sono messi d'accordo e hanno deciso di potenziare quest'area di ricerca sul territorio nazionale mettendosi insieme e creando sinergie stiamo cercando di mandarlo avanti questo Fox Lab abbiamo interessanti prospettive i temi ci sono i ricercatori anche dobbiamo continuare a farlo crescere L'obiettivo qual è? L'obiettivo è appunto cominciare a capire la funzione ecosistemica del bosco cercare di chiarire sempre meglio questi aspetti a livello globale ma ci sono anche altre importanti aree di interesse per esempio che ruolo gioca il bosco nel processo di mitigazione per eliminare CO2 dall'atmosfera quali possono essere le conseguenze della gestione del bosco su altri parametri che riguardano l'ambiente poi magari su questo ci saranno altre interessanti suggestioni da capire cioè che funzione ha il bosco sull'ecologia che servizi gratuiti offre alla nostra comunità che noi non paghiamo ma i boschi e le foreste stanno facendo qualcosa di molto utile per noi e poi ultimo da non dimenticarsi che il bosco produce legno il legno sta diventando un prodotto importantissimo per applicazioni tecnologiche innovative anche che riguardano l'impresa e il mondo economico il bosco trentino diventa quindi una sorta di laboratorio ma quali strumenti utilizzerete per queste ricerche? la nostra ambizione è quella di cercare di integrare diversi livelli di scala quindi dal livello molecolare al livello della copertura vegetale al livello delle regioni della nazione del continente e del globo quindi siamo molto ambiziosi vorremmo andare dall'estremamente piccolo all'estremamente grande per fare questo vorremmo utilizzare strumenti di laboratorio per quanto riguarda la parte molecolare ma strumenti di indagini come aerei sistemi di rilevamento e di telerilevamento fino anche a utilizzare modellistica satelliti e sistema di gestione e acquisizione dati ringrazio Franco Miglietta per queste informazioni andiamo avanti a parlare di boschi con il prossimo servizio nei giorni scorsi in Trentino hanno volato due aerei super tecnologici per raccogliere dati e informazioni utili a studiare gli effetti dei cambiamenti climatici su boschi e territori montani la campagna di volo promossa dal centro ricerca e innovazione di San Michele è stata presentata in conferenza stampa all'aeroporto Caprone di Mattarello Siamo con Loris Vescovo ricercatore della fondazione Edmund Mach questi aerei saranno utilizzati dai ricercatori che parteciperanno alle Summer School estive sul Monte Bondone che cosa faranno? Ecco, questi aerei sono dotati di sensori molto sofisticati in grado di monitorare le caratteristiche ottiche della vegetazione in esame in poche parole monitorano il colore della vegetazione ma lo fanno in maniera molto dettagliata sensore iperspettrale significa sensore in grado di produrre molte informazioni per ogni banda del visibile e nel vicino infrarosso Questa campagna di volo si inserisce all'interno di un progetto di ricerca ambientale molto ambizioso Eurospec Cost Parliamo di questo progetto Il progetto Eurospec Cost è un progetto coordinato dalla fondazione Mach con 20 paesi europei partner di questo progetto focalizzato appunto sulle tecniche di misura di questi sensori spettrali in particolare ci focalizziamo sulla standardizzazione a livello europeo di queste misure esiste tutta una rete a livello europeo di ricercatori che eseguono queste misure ma uno standard ancora non è stato trovato il focus del nostro progetto appunto è quello di trovare un luogo comune per poter incontrare e far incontrare i diversi ricercatori del network Ecco, tutti questi dati queste informazioni raccolte via aereo e via terra serviranno per studiare gli effetti di cambiamenti climatici su territori montani e boschi Certo, stiamo parlando di sensori e di ricerca in campo ambientale per verificare qual è la risposta della vegetazione alle variabili ambientali in questo caso verrà anche organizzato un esperimento di manipolazione della capacità di traspirare da parte della canopy quindi simuliamo un cambiamento climatico e monitoriamo quali sono gli effetti di questa simulazione Il servizio è concluso la linea torna ora a Walter Nicoletti noi ci vediamo la prossima settimana arrivederci arrivederci